Ha vinto Leclerc questo Gran Premio di Belgio per un soffio su Lewis Hamilton, terza posizione per Bottas, poi Vetter a Bon Perez, Kivat, Wolkenberg, Gasly e Stroll. Sono questi i piloti a punti, si si è ritirato nelle battute finale il buon Norris che era in quinta posizione. Un vero peccato invece per quanto riguarda Giovinazzi che avrebbe rovinato tutto all'ultimo giro quando era in nona posizione. Insomma Leclerc è il vincitore di questo Gran Premio di Belgio, ovviamente la vittoria di questo straordinario pilota è andata al buon Anthony Hubert che purtroppo si è spento qualche giorno fa di tempo per colpa di un incidente che purtroppo si è andato a verificare. Il suo cuore e il suo cervello è andato proprio a costui, il buon Leclerc lo ha espresso pubblicamente dedicando la vittoria proprio a questo amico speciale. Vi ringrazio in primis per la visione di questo video di oggi, in secondis per l'ascolto ai simi utenti di Youtube Italia. Cari a voi un salutone e al prossimo video da Leandro, un narratore italiano.